Sindaco Massimo Cialente, finalmente, possiamo dire dopo mesi di impasse all'ufficio speciale è arrivato il nuovo titolare? Quattro mesi e diciotto giorni, una cosa... Ha portato il conto? Sì, sì, ogni minuto, se vuole posso dire anche i minuti, sui secondi mi sto confondendo. Sì, insomma, è stata veramente una gravidanza troppo lunga secondo me. E finalmente, dopo lunga e penosa malattia, siamo riusciti finalmente a raggiungere questo nome. Devo dire che c'era la rosa individuata dalla commissione presieduta a Mancurti, era particolarmente prestigioso. Ci sono state una serie di valutazioni anche per la continuità, una sicurezza di tutte le cose. Il nome è caduto su Raniero Fabrizi, si tratta di un uomo che viene al mondo del proprietorato delle opere pubbliche, attualmente è membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Io sono soddisfatto perché andiamo a cogliere questo aspetto, cioè di affidare questa conduzione, di questo ufficio che per molti aspetti si intersega e dà logiche di ufficio pubblico con un esperto di procedure amministrative. Guardi, questo è necessario. Noi cerchiamo adesso soprattutto un organizzatore. Io non mi sarei mai aspettato, come non si aspettava Pierozzolo, di trovare un ufficio organizzato con tempi così lunghi, le scade parametri, ad esempio, vengono viste e dopodiché viene richiesto al progettista una prima integrazione, dando 30 giorni il progettista se ne prende di più, arrivano poi la richiesta di seconda integrazione. Questa è una cosa impensabile, questo tipo di organizzazione. Io vedo una grande lentezza. Adesso il compito di Raniero Fabrizi sarà quello di accelerare. Devo ringraziare Pierozzolo. Pierozzolo gratuitamente si è caricato questo peso notevolissimo, l'ha portato avanti non nell'ordinaria amministrazione, ma avviando anche delle modifiche più o meno radicali per alcuni aspetti, tant'è vero che ha avuto la... Non sono tanto piaciute però all'ufficio speciale ai lavoratori che hanno lamentato anche un po' di essere presi come capri espiatori con una lettera che hanno indirizzato a lei. Ma guardi, io ho il massimo rispetto ai lavoratori, però non si devono anche sentire intoccabili. Nel senso che tu non puoi guardare il tuo ombelico. Per me puoi anche lavorare in modo come un mandarino cinese. Il problema è che i tempi della ricostruzione della città che sono i tempi della sopravvivenza della città non possono essere otto anni per arrivare all'ultima scheda parametrica. Se tu mi fai la prima settimana di cui ho preso il report tre schede parametriche, questa settimana due schede parametriche, con questa media 1200 schede che attendono, ne parliamo di 9-10 anni per avere l'ultima scheda parametrica. Poi per i tempi di ricostruzione non esiste. Quindi i lavoratori devono interrogarsi sul fatto di avere un'organizzazione che non funziona. Io non li accuso di non lavorare. La loro organizzazione non sta leggetto. D'altra parte però Pirozzolo, con alcune modifiche che ha portato, ha avuto l'incomio addirittura pubblico da parte degli ordini professionali. Ci sarà un motivo perché sia successo questo. Dopo che io penso che i lavoratori non si debbano sentire coinvolti, si debbano interrogare se il loro lavoro in questo momento è efficace. L'obiettivo qual è? Quello di fare benissimo una scheda parametrica, di farne una l'anno oppure di farne in modo che la ricostruzione venga. Lei è troppo giovane di ricordare perché c'erano Ugo Tognazzi e Vianello che facevano uno sketch bellissimo nelle televisioni negli anni 50 in cui c'era questo falegname artista che da un tronco di legno alla fine ricavava uno stuzzicadente. Il timore però anche di alcuni coordinatori dell'ufficio speciale è quello che si vada verso una semplificazione eccessiva della valutazione delle schede parametriche in particolare e così non cogliere quelle che sono le sfide di una ricostruzione che sia anche di qualità oltre che di quantità. La scheda parametrica abbiamo detto che è parametrica voglio dire esamini su dei parametri io non credo che la ricostruzione fatta a Cinesse, RUIS e Fintec non sia stata fatta male e camminava quasi di più. Io credo che i coordinatori vedendo i risultati hanno sbagliato hanno coordinato male ripeto se noi da un tronco dobbiamo tirare fuori alla fine uno stuzzicadente sarà un capolavoro ma insomma qui si deve camminare assolutamente se la scheda parametrica si affronta con metodo a mio avviso può funzionare. Io ho detto una cosa ad esempio se devo dare una regola si chiede una sola integrazione se entro 15 o 30 giorni non viene data restituita dal progettista il progetto si prende e ricomincerà poi da capo sapendolo i proprietari perché i progettisti sono carichi di lavoro i ragazzi vogliono approfondire la scheda parametrica e qui non si ricostruisce. Torniamo alla nomina di Fabrizi perché da stamattina da quando si è diffusa insomma la notizia c'è stato qualcuno che ha no, non è qui con Vittorio Fabrizi ma qualcuno che ha ricordato i ruoli di Fabrizi in tutti questi anni l'accennava anche lei ma soprattutto negli ultimi capo della struttura di missione del G8 alla Maddalena con quello che ne è conseguito stessa cosa per i 150 anni dell'Unità d'Italia è sempre venuto fuori in maniera pulita da qualsiasi tipo di inchiesta che l'ha minimamente riguardato ma non si può negare che è un uomo che per molti è molto vicino a chi fino ad oggi ha gestito le opere pubbliche in Italia questo la preoccupa? Ma no, guardate allora senta noi abbiamo avuto alcune persone che hanno fatto domande che sono interessate da visi garanzia e questo ha inciso sul fatto che magari non sono stati scelti per come per un calciatore rompersi il menisco è abbastanza un rischio oggettivo per dirigenti pubblici una visi garanzia per un per un abuso d'ufficio e così via non devi mettere il conto il fatto che invece ci sia una persona che ha lavorato per 30 anni o come mancurti per 40 anni in questo settore e non sono mai stati toccati da nulla dimostra che si tratta persone che sono stati capace di lavorare con estrema correttezza attenzione alle regole d'altra parte in questo campo chi non fa nulla non rischia nulla chi fa è chiaro che ti trovi a attraversare dei rischi il fatto che nonostante tu abbia partecipato un po' a tutte le grandi opere anche quelle dove c'è stato delle zone d'ombre di malaffare le persone ne sono uscite sempre in tonse e mi sembra una dote di merito non la preoccupa nemmeno il fatto che Fabrizi qui all'Aquila ha già lavorato seppur negli anni 80 quindi tanti anni fa che è entrato di striscio anche nella questione del fallimento di Irti che comunque è un uomo che la città la conosce non era forse meglio una persona completamente esterna al mondo della nostra città questa è una dietrologia tutta aquilana guardi questa è una cosa molto strana in che cosa entra il fallimento di Irti lui era la parte pubblica è chiaro che se Irti avrà risposto all'appalto in cui lui giocava una partita probabilmente c'è entrato questa è proprio l'aquilanità che caccia no perché lo zio conosce aquilio eccetera dopodiché lui è stato all'Aquila no in anni precedenti lui credo sia stato il periodo in cui venne realizzata la questura queste cose qui insomma però ripeto sono persone molto molto perbene che conoscono il il mestiere fra l'altro il fatto che non siano aquilani è una cosa anche positiva che